Buongiorno a tutti gli amici di Radio del Capo.it, benvenuti alla puntata immancabile del lunedì della rassegnata stampa di Radio del Capo. Prima di cominciare saluto Daniele Nuzzo e la grandissima Vita Biasco che ieri hanno fatto una bella puntata di Man, forse la vera prima puntata di Man, musica, alimentazione e natura, un nuovo format creato da Daniele Nuzzo su Radio del Capo in cui si parla di musica, alimentazione, natura, insomma tanti argomenti che riguardano il mondo post-covid si può vedere sia sul sito, abbiamo messo in formato più definito ma anche in formato di ieri in diretta si vede molto molto bene e si ascolta molto bene, si entra molto bene ovviamente c'è sempre da migliorare, ci mancherebbe però è molto fruibile anche visto i commenti che ci sono stati. Allora cominciamo subito col Corriere della Sera Allora Corriere della Sera Lineatura contro la Movida, gli scienziati servono a stretta sulle fasce roste, le regioni frenano, allo studio nuovi limiti agli spostamenti nelle zone gialle, divieto trasporto dei bar dopo le 18 Guarda, lineatura contro la Movida perché la Movida è tornata, ci sono locali chiusi da secoli, le discoteche chiuse, sale da ballo chiuse, palestre chiuse e questi pensano che sta a te e non si rendono conto che il lockdown comunque comunque c'è dei limiti, non è che serve, serve fino a un certo punto però non è che aumentando i limiti, aumentando le restrizioni poi i risultati li vedi, assolutamente assolutamente no perché il punto dove sta, cioè tu puoi anche fare il lockdown più severo, non ci mancherebbe, ti puoi prendere tutto il tempo che vuoi però se nel frattempo tu non metti a posto i trasporti e non metti a posto la sanità e non metti a posto la sanità anche per quanto riguarda i medici di base che si sono rivelati fondamentali non migliori il tracciamento, alla fine d'età sta la storia, vabbè andiamo avanti poi mi dico un'altra cosa la Repubblica, basta con la scuola online, fateci tornare in classe, oggi solo in tre regioni riaprono gli istituti secondari in presenza studenti e genitori in piazza, in molte città, i comandatori bocciano i nuovi parametri, musei aperti in zona gialla, meri per i barri e il trasporto dopo il 18 ora, io non so se poi si crea sembramento in grandi città, nei bar, però credo di no se la stiamo prendendo troppo con i bar, perché in questa pandemia ormai bisogna trovare veramente l'untone se no non siamo contenti e prima erano i runner e poi erano quelli che portavano a sposta il cane e poi era quello così e poi quello con lì qualcuno andrà sempre a trovarlo, guarda, in fila con i cinesi a disciplina del vaccino ora, volevo dire una cosa sui cinesi, molti dicono che in Cina stanno scendo meglio perché hanno fatto un lockdown più sapere ma non sono pienamente d'accordo perché il discorso è che noi pure abbiamo fatto un lockdown severo ragazzi, cioè a marzo aprile abbiamo fatto veramente un lockdown molto molto severo il punto cos'è, è che la Cina ha fatto un sistema di tracciamento che forse da noi, non so se l'avremmo potuto fare perché è un sistema di tracciamento che un po' lede i diritti principali, i diritti costituzionali e non so se l'avrebbero accettato, l'avremmo accettato di una cosa del genere se in piazza si può fare capotanno anche con le mascherine è perché il governo cinese in qualche modo sa tutte le persone che è stato lì in piazza, quindi ripeto non è una questione di Cina che ha fatto un lockdown più severo è che loro hanno fatto un tracciamento molto più efficiente del nostro senza pensare che i test molecolari, i tamponi molecolari fanno la velocità che noi ce la sogniamo questo secondo me è la vera differenza la stampa, il colle, stop la crisi, prima il recupero, Mattarella chiama Renzi ferma le tue ministre, intervista a Patronelli, dopo contro c'è solo il voto il nuovo DPCM, stretta la movita e spostamenti di età, riscontro sulle zone rosse lì di Arcuri e De Luca, sui vaccini qua si pensa solamente a fare nove strette quando bisogna mettere a posto il paese che poi tra l'altro tu hai l'occasione di mettere a posto la sanità senza vincolo di biancia perché alla fine ci sono stati dettagli della sanità perché comunque non era efficiente, non si potevano spendere molte risorse appunto sulla sanità, adesso c'è l'occasione di spendere quanti soldi vuoi sulla sanità e questi soldi te li puoi ritrovare dopo cioè tu puoi mettere a posto la sanità anche per i prossimi anni niente, niente, puoi mettere più terapie intensive puoi mettere più posti letto, puoi assumere più persone che dopo ti servirà niente ragazzi non ci arrivano, non ci arrivano proprio e a me dispiace soprattutto per chi lo difende questo governo cioè per chi difende appunto tutto questo modo di fare basato sulle restrizioni cioè tu al posto di... perché la vera scommessa è quella di convivere con il virus quella è la vinci, la vinci o perdi ora che... cioè adesso che rivedo il vaccino sembra che sia una questione di tempo ma non è così il tempo, ormai l'abbiamo perso tutto l'abbiamo perso il tempo bisogna recuperarlo invece il fatto quotidiano i giornali parlavano di flop invece il cashback ha già 6 milioni di iscritti di cui 3,2 oltre a soldi di rimborsi un bel modo di combattere le passioni si posso anche dare ragione può anche dare l'idea che è buona va bene, si non è quello il discorso però dal punto di vista comunicativo se tu lascia aperti i negozi però fai in modo con una campagna mediatica anche pesante di dire alle persone di rimanere a casa insomma poi le persone rimangono anche un pochettino sparesate poi il fatto degli iscritti non vuol dire nulla non vuol dire se ha successo tanto è guadagnato però attenzione che ha dei limiti questa cosa è il cashback bisogna mettere come dire una soglia minima non è che per comprare il pane tu paghi il cashback perché lì ci sono delle soglie fisse quindi va un po' rimodellato va un po' rimodellato è stato in emergenza solo fino ad aprile ah solo e nove restrizioni poi regioni scusa regioni sediziose a scuola in 220 mila anziché 3,6 milioni un mese di minaccia stasera arriva il ricopio di plan da votare partedì il consiglio dei ministri grazie scusate un secondo Renzi incartato anche oggi ritira le sue ministri domani e ovviamente il fatto quotidiano va a nozze anche se poi Travaglio ha detto che non avrebbe non sarebbe stato dietro a a twitter agli interventi di persone di partiti che sono al 2% ora facciamo giornali locali con la gazzetta del mezzogiorno zona rossa all'altro lato delle regioni Puglia furbetti di facciglia bella nuova accorta esperienza archiviata il colore del giorno della della babela delle idee le affinità le tipe fra il duce e il magnate è tornato il bar dei pareggi e la terrenata si allontana a più 8 mi sa che il bar anche quest'anno sarà impantanato dei playoff voglio aiutarsi pure che sa e poi andiamo avanti un attimo a Lecce prima negli ultimi 7 giorni in Puglia 198 nuovi casi ogni 100.000 abitanti su richiesta degli esperti il governo sta parlando di promuovere il parametro dell'andamento settimanale per stabilire la collocazione delle regioni in una fascia di rischio in una delle fasce di rischio zona rossa dopo la somma dei 250 sì ma anche lì quando vedo che stiamo in difficoltà con gli ospedali e vedo che Lilton che era destinato a Covid Hotel o Zen o forse Zeniter che era destinato a Covid Hotel lo chiudono ecco qualche domanda ve la faccio poi potente fulmio su palazzino svegli residenti tanni a elettrodomestici è successo a maglie dicono l'hanno sentito pure a specchia a 11 l'anniversario per i 5 anni della morte di Fabrizio De Andere è una ricorrenza importante la fogamona che ha vistato nelle acque dell'ampio di Porto Risario poi aria marina protetta postazioni per studiare con il sistema liberazione online proposta di Link poi colpio una pizzeria di Via Leuca escalation episodio nella stessa zona poi via vai sospetti intorno a casa blitz di militari trovate la droga e i contanti è successo a non lo diceva casa labbate niente ridi pieno coste anche se non definitivo prevede spiaggia libera beh non sarebbe una cattiva notizia fugire nel cammino e pistola nel forno in pietra dice 2.000 gigliari un quarantenne è successo a Torre Vado cerco di vendere gioielli in oro ma erano false scattola 2 denuncia ok torniamo indietro perché facciamo giornali sportivi perché oggi lunedì sembra lo sport anzi c'è una cosa facciamo anche giornali con l'ovici e poi finiamo con lo sport l'Italia oggi la carica di 101 poste fiscali ricondizione dei crediti di imposto messi in campo negli ultimi mesi mosse un sistema eterogeneo e molto complesso anche quali sono cedibili e quali no pagamento online più difficoltoso in periodo dei fatturati delle piccole e medie imprese in periodo fatturati delle piccole e medie imprese esperienze e competenze nei cd delle banche fiduciari e finanziari poi ecco vedete qua io lavoro sanità a due anni dalla riforma e quindi credo di incentivi anche per l'efficienza anche per gli immobili non residenziali il mio 110% quotidiano e beh bisogna ormai si stanno creando anche queste figure di consulenza questi bonus perché insomma è una è una vera giungla conviene sì ma è veramente una giungla solo è impossibile farlo è da solo è impossibile però dai conviene allora il Mila scappa ancora e poi Pioli Pioli prenota mezzo scudetto Ibra ricomincia da più 3 Zilata ritrovi rossoneri sono lì in vetta mercato Simacani il primo rinforzo a che serve un rinforzo molto forse a centrocampo occhio occhio conto arriva la Juve domenica successività San Siro i bianconeri ora sono lì ovviamente ecco no per dire come può cambiare la mentalità il Mila ha perso con la Juve ma chi se ne rega perché la partita più importante era col Torino e la partita più importante sarà col Cagliari perché c'è un inter-Juve quindi bisogna per forza fare i tre punti poi c'è l'ultima giornata di andata in casa con la Taranto in cui non dico che si può perdere ma se arriva su un pareggio buono lo si prende con fiducia e il Mila deve pensare a vincere le partite proprio quelle con le piccole perché lo scudetto è vero lo vinci magari con gli scontri retti ma le perdi con le piccole e il Mila in tanti anni ha perso gli scudetti con le piccole ora con le piccole deve solamente pensare a voi gli scontri retti si vinci perdi però è alla lunga che vuoi che si vede in pianti dell'Inter gioca meglio ma la Roma ciocca il 2 a 2 il tecnico sbagli i cambi sul mercato è rassegnato povero Conte cioè Conte sta prendendo quella società che sta come tantissime società nel mondo sta in difficoltà economica poverino pareggio facciamogli una colletta la scalata di Pillo fatica Conte Sassone indietro gol di Danilo Ramsey e CR7 3 a 1 guai a ginocchio di bala si ferma ed è allarme facciamo anche il Corriere anzi c'era tutto sport dai è un po' di tempo che non lo vedevamo e allora 3 sms al Milan Juve non molle c'è solo domani 10 per scolzare il bianco nella ripesa di Danilo De Frel Ramsey e Ronaldo i bianconi restano 7 punti per il sorelli puoi pure mettere 4 puoi pure mettere 4 ma in due giornate ne hanno recuperati 5 all'Inter anzi per Meccani e Di Bala ai mamma no ma io stavo pensando una cosa ma sei durato mercoledì perché oddio mi resta ancora lista e metto un misto in settimana tanti gioventini che facevano come dire che erano contenti che sembravano che avessero vinto il campionato ma oddio ho dei così dei dubbi va bene ragazzi buona settimana a tutti e ci sentiamo per le prossime ciao grazie